Quindi vi saluto, io vado a giocare a Mario Golf e bye bye Grazie mille di essere stati con noi ragazzi Come si chiude il discord? Se vuoi ti disconnetto io No, lo chiudo io Ok, l'ha fatto lui Perfetto E qua, e noi iniziamo Sono già nel fine dell'azione, sono abbastanza event direi Hai visto impasse contro Mirko? Sì, un paio di match sono stati un po' cringe tra SD Sì, vabbè, ma secondo me è rimpiazzato l'articoltore in pass Sì, 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 assolutamente Scusate raga, quindi adesso vado oppure Oh, se vuoi restare qua, però non devi parlare Ok, no, vabbè, vi lascio, vi lascio Va bene, grazie Allora, no, a voi, a voi, mi sono divertito Allora, ciao, alla prossima Ciao, ciao, alla prossima Ciao Bye bye Dunque Per adesso è un match Molto neutral Nel senso, non ci sono state combo eccessive Ma sì, ma cioè, si buttano offstage a vicenda E poi rientrano Ci fanno quel 10% Adesso Mirko però ha deciso di cambiare No, l'ha addirittura appoggiato sullo stage E ha perso la stock Gentilissimo Si è committato a un downer Su cui non avrei committato Cioè, siccome era più sicuro di fare un altro fair Ma voleva sicuramente uno sweet spot Eccolo Oh, bello Classico F smash all edge Sì Adesso ogni volta che Claren è on stage Ah, devo fare la prediction Porfa, giuda Questi downer però non stanno proprio entrando eh Per adesso Il problema è che laggano tanto E più che altro è quello Eh, sapevo che saremmo finiti qui Oddio Stroll away Bellberry Mi sembra strano che ovviamente non abbia cancellato i side Eh, ma lui Lui li cancella quando meno te lo spero Oddio Che brutta di eye Ha fatto la di Eh, o non l'ha fatta proprio Che è dovabile Oddio, no di eye non so se finia così Per me l'ha fatta proprio out Per morire così tanto presto Sai cosa? Secondo me vuole fare di eye al downb Però L'ha fatta al fair Vuole fare di eye out E ve l'ha fatta dopo Brabile Bellissimo Fair 1 Down smash Che Mirko è super consistent Oh, quale stasso aiuta Memento? Comunque Match molto even Probabilmente tra i due player Che Non dico giocatori più di recente Ma quasi Ah, Mirko gioca Tra quelle nuove Molto poco Memento gioca già Più di Di Mirko Però Mirko è comunque Secondo Praticamente Primo pari merito Di smash ultimate in Italia Quindi Non è L'ultimo Non è sicuramente Uno scappato di casa Anche se sto match Mi sta un po' contraddicendo In sto match È stato un po' Flowchartato Da Da Krag Da Krag Cioè ha subito Downbifair Due volte Che Kekster Kekster in top 8 Kekster in top 8 Kekster in top 8 Kekster in top 8 Tommella Kekster Spiritualmente Frank e Kekster Sì Sono sia Frank che Kekster In top 8 Quindi forse non c'è Non c'è neanche Eh sì Però era Tommella forma De Saiyan Della muerte Va bene dai Commentiamo anche Le conversioni di Memento dei Japs Sono molto pulite Adesso Mirko Si committano Che è una cosa A mio parere Inutile Che Fa tornare gratis Ma l'avesse preso L'avesse preso Sarebbe morto Secondo me Perché comunque Quella roba lì Te lo dico Per esperienza Non ammazza No 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 Io con Mirko Ci gioco Lui riesce a uccidere Con quella roba È assurdo Sì ma tu sei Assurdo Oh Eh beh sì Quello anche La Transco Un momento Transco O la Key Perché Quella è più La Key Proprio La Transco Mi sa che Spikeare 50 volte E leggere ogni Tech Option Qua Mirko Sta leggendo Molto bene Tutte le opzioni Sì Però ho fatto Un brutto Wall Jump Però Però Passiamo In questa situazione Si prende Un bel 51% Più Edge Che non arriva Lento col Funnish Eh sì Ma ci si aspetta Che laghi Molto Quello Eh Se non lo sai Che lagga Un cazzo Non lo sai Da dove l'ha preso Cos'era Da un smash Sweet spot Eh Ha dormito Ci sono addormentati Tutte e due Sul controllo Bel perry Vediamo Di mix up Con Neutral di grab Oh Eh Questi down È tipo Il quinto che fa Ma non è entrato Nino per adesso Bellegi card col ferro Eh ci ha provato Lì col side B Era bello Quello che Sta venendo Nooo Sai cosa Secondo me pensavo Ad avere il salto Può essere Sì A me capita Un botto Di non avere il salto E andare giù Con un sacco Di patate Però Memento sta Ah Memento sta andando Sta sembrando Pulito Non andrò Mentire Sì 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 Anche Le sue recovery Non sono mai Troppo ovvia Eh Ahia Oh il primo down Che entra Ma i vatti Fa so strano Primo swizzle downer Che entra Non ha neanche fatto di aie Perché Sarebbe dovuto Che ne siano sopravvivere Manca l'edgeguard Però Mirko fa un ferry Che Ovviamente Riesce Unire lo stesso Ahia E qua è proprio stunts Even comunque Adesso sì No Mirko comunque Con una conversione Può benissimo Recuperare Eccoci Aiuto Con sasso Poi Nooo Perché non Non ha fatto fsmash Esatto È quello che sto dicendo Oh Redemption Era finita Nooo Quel ferry Ah ce l'aveva la read Peccato Frank Frank RIP Stava facendo fsmash Quindi l'ha fatta Praticamente dritta Come no di Hai ha fatto Sì C'è capisco il fatto Del trade strano Però Oh 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 Donazione Di clono A hero 15 euro Madonna Santa Clono Grazie mille Grazie mille È la prima donazione Che non è un Kai qualcosa Giusto Eh sì Perché per ora C'è stata la donazione Di Kai Poi Kaihater 69 Kaihover Poi c'è Io sono neutrale Verso Kaih Oddio Chi era Io sono neutrale Verso Kaih Io Eh ma ciao Oddio Non può teccare Quando ha un sasso Kragh Esatto Però Letteralmente un sasso Oddio Adesso nel momento Sta un po È un po Shook Sì ma Perché Mirko Ha preso Un po Ingranato Secondo me Però Sta un po Soffrendo troppo Da questi Down B Ma sì Ma anche Down B Side B Si sta beccando Un botto di Kraghate Ecco il pillar Ci mancava Quello La lista Delle cose Kragh Oh Eh lì È il coso Non so neanche Se chiamarla Un attack In realtà E se Scivoli sull'edge Vai velocissimo Con Side B Dopo Sì È morto Adesso Ho bel perri Sto giro Bel punish Giusto giusto Non poteva fare Di meglio Vediamo se Non ha fatto Il miglior Dei punish Però ci stava Nel senso Non era neanche Il miglior Dei fatti Oh sì L'ha buttato Offstage Comunque Poi Il downfall È stato Non seguirli Offstage Perché quando Quando va così Lontano È obbligato A fare Un recupero Super orizzontale Con l'air dodge Le shard Ma Ok Questo side B Cos'era Mi sa che è morto Ah no È tornato invece Oh bravo Bello Poteva farlo prima Però si è Ha avuto un po' Poi Auretensione Doppio F tilt Odio Kragh Sta facendo un sacco Di misclick Mi sembra Un momento Si è fatto un downfall Girato dal lato Bello Oh finalmente Oh ce l'ha fatta Vabbè che prima Mi sa che Perché ha perriato Il terzo Adesso Prima Il momento qua Indovina Il mixup Dell'ADI O comunque reagisce Perché anche Quello Bellissimo Era molto brutto Però il punish Ha fatto un drift Bellissimo Il momento Per non essere copito Dal fair Eh si L'ho dovuto fare Perché il pillar Che aveva messo Non era al massimo Adesso Mirko Aspetta Il momento giusto Entra così F smash L'f smash Di L'irona Però molesto È difficile Girarci attorno A prescindere dal pg Non sarà F smash Di shovel Però comunque Per certi versi È meglio Nel senso che Ha un arco Più Vabbè si È più grande Poi c'è Cazzo lo switch Esatto Lì non è che muori Perché non fai Di Muori e basta Oh Quel down B2 Down B down B Sass Sai cosa Secondo me Mirko Potrebbe utilizzare Oddio Qua ha rischiato Troppo E' Eh beh La Te l'avevo detto Che uccideva Quella roba Ok Lì ha ucciso Perché Non aveva risorse Però Non ha ucciso Direttamente Sì Sì Però Però Comunque Mirko Mirko La Shadow È piazzarlo Quella qui Comunque Sì 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 E via Adesso Game 4 Non escludo Per niente Un game 5 Però Adesso Sarebbe Sarebbe Bello Però Mirko È veramente È un point Ha capito Ha capito Un po' Bello Side B Side B Stam Sì sì Sta baitando Molto Dash attack Anche prima Con down smash È vero che Mirko è un point Però Krag può fare Quelle robe lì Che appena Si però Krag La toccata una volta Ah Pensavo Specast Bella recovery Bell downer Oh Peccato Peccato sì Per Neutral B Non connesso Sto match up Com'è Io Forse direi Quasi Quasi Even Mi viene da dire Sì Nel senso che Si esguardano Oh no Brutto recupero Si esguardano Molta vicenda Ah esatto Una cosa che non ho detto Che volevo dire prima Di sto match up È che Krag Ti tira spesso Il sasper C'è guardati In generale Claren può fare Down B Respingerlo E ha pure Un altro È vero È vero È vero Sì Il down B di Claren Ancora non l'abbiamo visto Però la cosa stupida È che il down B di Claren Non blocca Il down B di Krag Perché ti compone Eh no Non è un proiettivo Va per terra Cioè È una cringata Down B di Krag Mirko sta venendo lentamente Recuperato Piano piano Aia Aia Non dovevo parlare Oddio Brutta di eye Sarò sincero Ho tipo Tolto un secondo Gli occhi dallo schermo Ed è morto Ovviamente Ha fatto row F Smashing neutral Così E l'abbiamo morto Oh Un po' bello Un po' meno bello questo No Morto Aiuto Ha fatto 2 SD 2 SD Mirko Però Cato Ci potrebbe essere un turning point Per memento Ah sì sì Memento Cioè Questo è il momento giusto Per Per tirar fuori la grinta Prememento Ah beccato niente Sweet spot Adesso non prova neanche più Per riarlo Comunque il down B Mirko Entra Gli va in faccia Bello quel side B Che non rid Ok Però non è detto Non è detto niente ancora Anyone's game Non ho capito Perché abbia fatto up tilt Per punire lì Però Bellissimo 3'1 per Mirko 3'1 per Mirko